a posto, signori ufficiali, a e lino d'Italia a posto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso vi presento quelli che sono i tre personaggi che completano questa meravigliosa tematica musicale, abbiamo il nostro solista al flauto, Andrea Mogavero. La meravigliosa voce di un soprano di questa terra, di Martina, grazie a D'Aversa. E lui, lui che è anche qui di questa terra, ma soprattutto è un grandissimo direttore d'orchestra e un grande arrangiatore, il maestro Antonio Palazzo. Grazie a tutti. Bene, introduci il primo pezzo. Vado? Vai. La scelta dei pezzi di questa sera è una scelta meravigliosa. Sono, come dire, le più belle colonne sonore, una scelta veramente azzeccata che il nostro maestro ha fatto, soprattutto per ispirarsi ad una vita così bella e così importante come quella del signor generale. Non possiamo che iniziare con una delle colonne sonore più belle al mondo. C'era una volta in America, di Sergio Leone, musicata da Ennio Morricone. Signori e signori, l'orchestra dei giovani talenti. 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 Grazie a tutti. 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 , . , 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 ,... , , , , , , , , , ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,... Il mio paese è freddo 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 Non vedo, meglio per te, non ti scordi. 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 L'orchestra Giovani Talenti. 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 A scegliere il sun within the paradise Grazie. 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 Grazie.